Avverte Gianfranco Pasquino, professore merito dell'Università di Bologna. Chi non vota non conta. Qualcuno non può votare perché lavora in giro per studio, non è dove dovrebbe andare ai seggi. Qualcuno non vuole perché non gli piace la politica, non gli piacciono i candidati, non gli piacciono i programmi. Qualcuno non ci riesce perché non è nelle reti di relazioni sociali e i partiti non gli vanno a chiedere il voto. Questo produce una bassa partecipazione elettorale e anche una bassa qualità della democrazia. Non possiamo saperlo. La qualità di una democrazia dipende dalla qualità dei rappresentanti e dei governanti. Meglio se gli elettori li votano e li valono.